E restiamo a Terni e nelle scuole di Terni per parlare di innovazione nel settore della viticoltura biologica. Perché? Perché all'Istituto Agrario Ciuffelli sono state raccontate e mostrate molte nuove attività come la difesa biologica avanzata dei parassiti, quindi con mezzi naturali. Il tutto all'interno di un progetto di innovazione che tra gli obiettivi ha la riconversione al biologico dei produttori vitivinicoli della regione oltre ovviamente alla promozione del biologico.